Io lo faccio da tanto nella musica e diciamo che in questo caso c'è un festival che è riuscita invece a portare tutto il lavoro che le donne fanno nel mondo in questo senso. Io mi sento a casa, cioè sono felice perché in fondo si parla semplicemente di un altro modo di raccontarsi. In questo modo non attraverso la musica, attraverso il cinema, che è un mezzo espressivo meraviglioso e quindi credo che questo festival debba andare avanti, debba avere dei sovvenzionamenti, debba avere in qualche modo qualcuno che l'aiuti molto di più di come è stato fatto fino adesso a diventare una realtà fondamentale.